La Giunta regionale ha approvato il bilancio preventivo dell'ente che ammonta circa 5 miliardi di euro e la legge di stabilità. Per il Presidente Giovanni Toti i principali obiettivi sono sostenere le imprese e garantire i servizi ai cittadini. Per questo 29 milioni di euro sono stati destinati alla creazione di un fondo strategico che serve per il supporto finanziario alle imprese e agli interventi dei comuni per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualificazione urbana. Viene prevista la riorganizzazione delle società partecipate e un piano di miglioramento del servizio sanitario. Altri 20 milioni di euro sono poi previsti nel settore della difesa del suolo, dell'ambiente, del turismo e dello sport, mentre 65 milioni andranno per il cofinanziamento di progetti europei e 26 milioni per il sociale. Al trasporto pubblico sono destinati 37 milioni e 1,7 per la cultura. Secondo Toti, di fronte a un paese che non si riprende dalla crisi, la Liguria mostra dati confortanti nel settore del turismo con aumenti di arrivi e presenze e anche nell'esportazione ed è per questo che la regione intende investire perché questo percorso positivo possa continuare.